Eccoci! Eccoci qua! Basta, basta, basta! Allora, oggi non ci siamo neanche contratti all'inizio, per cui non mi hai detto niente. Oggi ti faccio un pane! Eh beh, certo! Con tutta questa pasta, un po' di pane per celebrare l'autunno. Per fucciare! Esatto! Per celebrare l'autunno, che tarda un po' ad arrivare, però i frutti dell'autunno ci sono. Allora, gli ingredienti che ci servono... E fai questo pane d'autunno! Bravissimo! Un rustico d'autunno, che proprio riprende un po' la rusticità degli ingredienti, anche poi nella forma. Utilizziamo 950 grammi di farina tipo 0, 50 grammi di farina integrale, quindi una piccola parte per dare gusto e colore, 650 grammi d'acqua, 10 grammi di malto in polvere, anche qui il sapore e colore al pane, 12 grammi di lievito fresco di birra, 20 grammi di sale e poi 150 grammi di fichi. Oggi abbiamo ancora i fichi freschi, ma naturalmente possiamo anche usare quelli essiccati. E 150 grammi di noci, che sono proprio il frutto della stagione autunnale, che a me piace tantissimo. Allora, andiamo a mischiare le due farine, naturalmente la quantità di farina integrale qui sono proprio il 5%, proprio per dare un ricordo, possiamo anche aumentarla a seconda poi dei nostri gusti. Andiamo con l'acqua, che sono 650 grammi, e all'interno insieme all'acqua andiamo a inserire il malto. Il malto in polvere in questo caso lo usiamo per dar colore, ma chi fa panificazione a casa è un qualcosa che è buono avere, perché aiuta tanto anche sulle fermentazioni, soprattutto utilizzando delle lievitazioni o delle fermentazioni molto lunghe, il malto aiuta un po' a ridare quegli zuccheri che mancano agli impasti. Quindi lo possiamo acquistare e comprare e tenere in casa. Ho messo 12 grammi di lievito fresco di birra e inizio ad impastare. Quindi vado dietro proprio a miscelare l'impasto, vado ancora con un po' d'acqua, che devo poi solo più avanzarmi per il sale. Adoro solo più, è proprio un'espressione piemontese. Solo più, esatto. Solo più, lo dicono sempre in Piemonte. A te ad esempio l'autunno è una stagione che ti piace? Molto, molto. Io adoro la stagione di mezzo. Mi piace l'autunno perché ha questo fogliaggio, questi colori meravigliosi, anche nel nostro bosco reale, si vedono già con questi marroni, con questi gialli. Mi piace la primavera perché poi ho risveglio, mi piace tantissimo, lo sapete, l'inverno perché a me piace la neve e il freddo. E io odio l'estate come è notorio, per me l'estate è una sofferenza... Di te dove vai? No, no, no. Come in montagna. Ma io proprio non amo il caldo e quindi faccio fatica. Vabbè, dai, tra un po' agosto finisce comunque, Anto. No, vabbè, ma questo clima già... Siamo all'85 oggi di agosto, poi dopo... Sì. Ma allora, illegale? Eh, dovrebbe essere domenica, no? No, ma lui ha detto illegale. Illegale. Legale, illegale. Dovrebbe essere domenica, se non sbaglio, l'ora, il passaggio dell'ora legale. Poi non so adesso che cosa decideranno. No, non so se deciderà diversamente. Allora, quando abbiamo finito l'impasto andiamo ad inserire gli ingredienti secchi, quindi quando l'impasto adesso è ancora un po' umido, dobbiamo impastare, andiamo ad inserire le noci e poi un piccolo trucco. I fichi a casa, siccome nell'impasto si possono un po', diciamo, spatasciare, come dici tu, io li ho messi semplicemente tagliati in congelatore, un paio d'ore. Vedi che oggi il congelatore è prima la mozzarella, adesso i fichi. Così andiamo a... Poi naturalmente loro si romperanno un po' durante l'impasto, ma almeno li andiamo ad amalgamare bene in maniera più facile. Sì, se no si romperebbero tutti. Prima lievitazione, riposo di sei ore in frigorifero e andiamo a, anche perché facciamo rapprendere bene l'impasto, andiamo a mettercelo sul tavolo. Vedi, lievita ma diciamo che riesce a essere abbastanza ancora lavorabile. Andiamo a stenderci un po' la nostra pasta a mo' di rettangolo e in questo caso io la divido. Già questo è il dolore dell'autunno, vedete questo pane, bellissimo. Io lo divido in quattro parti e facciamo questa forma che è molto semplice, ma molto scenografica secondo me, soprattutto poi durante la lievitazione. L'impasto è abbastanza granuloso, vedi? Perché ci sono i fichi, lui si spacca un po', ma è normale. Quindi ci andiamo a creare un filone, il più lungo possibile andando a massaggiarlo bene, possiamo anche lasciarlo riposare una ventina di minuti a temperatura ambiente. e quando l'abbiamo allungato bene andiamo a creare semplicemente questo, lo infiliamo dentro e gli infiliamo dentro di nuovo questo, guarda. Facciamo una specie di torsion. Ora te lo faccio vedere di nuovo perché è molto molto bello. È bello, una specie di... guarda che bello. Vedi facciamo proprio, lo andiamo a abbracciare come se fosse la copertina, no? Poi è bello che si rompa un po', perché dentro... Sì, perché è proprio la rusticità, qui c'è il 30%. Lorenzo, vieni qua che così lo impari, perché adesso che ha tanto tempo può anche fare il pane. Tu stai qua. Andiamo proprio a legarglielo dentro, lo allunghiamo e glielo mettiamo qua, vedi? Vedi che sembra un torsion anche di un anello. E poi è un po' scogliato comunque, vedi che si strappa bene. Sì, esatto. Secondo me è una fine, è proprio... Quindi poi, quando adesso questi li finiamo dopo, quando poi... Questo pane è quasi un pasto unico, cioè... Sì, esatto. Nel senso con le noci e alla mattina, insomma, energetica. Anche per chi vanno, va bene. Esatto, perché fichi e noci all'interno danno poi il sapore e soprattutto anche il nutrimento. Andiamo poi a farlo lievitare fino al raddoppio, in questo caso. Quindi deve lievitare circa almeno un'ora e mezza. E poi andiamo in forno a 220 gradi per 25 minuti. Vabbè, non è neanche lungo da fare. Non è lungo, dai. Così non è colazione, domantina. Secondo me il torsion è l'unica cosa difficile. Sì, bisogna fare... Allora, una cosa importante è fare... La prima colazione. È importante far raffreddare un po', cioè riscaldare un po' l'impasto per semplicemente stenderlo meglio. E guarda qua. È spettacolare. Guarda che bello. Lo faccio assaggiare. Anche con una fetta di prosciutto crudo, però secondo me con i fichi così. Con i fichi e prosciutto crudo qua. Oppure con niente. Guarda che meraviglia. È spettacolo. Fulvio Marino, pane d'autunno, rustico d'autunno. È che bello. Bravissimo. Bravo, bravo. Ti dà solo a me che può mangiare quello che vuole. Sì, sì, esatto. Perché piamano adesso, eh. Sì, ma io lo so. La Lotteria Italia. Poi dopo quello che ho mangiato, qualcosa devo più lasciare, se no... Allora...